Bello! Non me li ricordavo più! Cos'era? Quello? Ah, ok! No, questo è il secondo giro, ma che meglio! Questo... Vabbè, li lascio... Si, si... No, se vuoi andare dritto, qua! No, ma torniamo a suo piedi! Si, si... No, vabbè, ma... Si va di là! Si, ma se lo fai da sopra puoi arrivare! No, no, ma si va! Conviene... Oh, c'è Capatas che ti prende per il culo e poi va! Bala! Bala! Devi smettere! Bala! Bala! La linea centrale, diciamo, della canala che è sempre... Seguiamo la canala? Mai la... Ma la canala... La ma'yala... La ma'yala... La ma'yala... La ma'yala! la camera lampeggia? lampeggia rosso? perfetto Livy, grazie combattiamoci ah qui gli ho fatto il sorpasso a muslazzo aspettiamo, è qui il biblio? è qui il biblio? qua si va di la grazie 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 grazie